Socrates diceva che nessuno sbaglia volontariamente, vuol dire che anche nessuno ha torto apposta. Nessuno pensa di essere intorto, anche quando lo sono. Potrebbe essere che le offese che hai subito, o il danno che gli altri ti hanno fatto, non sono stati inflitti intenzionalmente? E se pensassero semplicemente di fare la cosa giusta per loro, anche per te? Quanto saresti più tollerante e comprensivo oggi se potessi vedere le azioni delle altre persone come tentative di fare la cosa giusta? Che tu sia d'accordo o meno, in che modo questo obiettivo cambierebbe radicalmente la tua prospettiva?